Sempre qui per Studio Tan, una domanda al volo, che tipo di musica ascoltate prevalentemente? Pop, tipo, cantate preferito? Ron, grazie, cantate preferito Ron e pop, si va bene, accettiamo tutto, sempre qui per voi, Studio Tan per le interviste sulla musica, sulla musica quello che la gente ascolta, quando, come, dove, perché soprattutto, non si comprano più dischi, però la gente comunque con le cuffiette, in modo autonomo, in macchina, ascolta sempre la musica e noi siamo qui a intercettare questi passanti, che adesso non passa nessuno, ma poi passeranno, proprio per chiedergli cosa ascoltate, come, perché, dove, quando, come la mattina, la sera, a tutto volume, in camuffa, con la sordina, in compagnia da soli, questo vogliamo sapere, dalle interviste per Studio Tan. Salve, che musica ascolta? Che musica sta ascoltando? Silvio Rodriguez. Ah, Silvio Rodriguez, è un cubano, è musica tipo folk, no, è musica... È impegnata, popolare. Popolare. E il suo ascolto, prevalentemente, è per la strada, casa, la mattina, la sera? Per strada, mi piace molto Radio 3. Ah, Radio 3, pari nel Radio 3 Suite. Sì, quello che riesco a ascoltare quando posso. Va bene, grazie, grazie, buona giornata. Una domanda da volo, che tipo di musica ascolti tu, prevalentemente? Cioè, rap, hip-hop e musica normale. Spariamo tre nomi a cazzo, così, a veloci. Fabri Fibra, Marrakesh. Una cosa che ci vogliamo chiedere, quando, dove, cioè, a tutto volume, da solo, in macchina? No, no, in compagnia di macchina, iPod. In compagnia di notte, la mattina? Sì, sì, tutti i giorni. Tutti i giorni. Mamma, uccido quel tronista, voglio prendere il suo posto, voglio i poster, faccio dei composto e prendo il primo volo a massolotte. E quando fai palestra anche... No, 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 no. Ah, ecco, non sei quello che colpo le poffiette? No, 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 vado in compagnia in palestra. Perfetto, quindi Fabri Fibra, diciamo, di base. Sì, non solo. E americano, cioè, un... Americano poco, ma mi piace la musica italiana. Musica italiana, sì. Grazie. Fabri Fibra, mezzo matto. Che musica ascoltate voi? Facciamo una piccola indagine. Tipo di genere, italiano, inglese, oppure... È il solito straniera. Poi scusi, mi sa che è arrivato il nostro autobus. Allora, di solo un nome, quindi devi andare via. Un nome solo di musica? Ma noi piace il mezzo, ci sono i Killers, ad esempio. Che sono americani. I Killers, grazie, grazie. I Killers sono americani e... Ah, non è questo l'autobus, quindi. Scusa, invece tu che musica ascolti, se... Io prediligo il metal. Il metal? Oh, questa non l'abbiamo mai sentita, questa risposta. L'abbiamo sentito tante, ma è metal. Allora, noi che siamo un po' ignoranti in materia, fai un po' di nomi, due nomi, non so se esistono dei gruppi particolarmente in voga. Dei gruppi per adesso che sono in voga ci sono i Messicani, gli Rikops de Kraken. Poi ci sono i Parque Drive, gli Slipknot. Ma tu vai anche ai concerti? Sì. Perché vengono anche in Italia questi? Sì, dipende. Dipende. In giro per l'Italia ci sono, di solito. Come ti sei avvicinata alla musica, per amicizie, per caso, scoprendo delle... Più che altro è per amicizie, anche per gusti musicali diversi da scoprirsi. Da istriconvenzionali, ho capito. Bene, è un ascolto in cuffia la mattina, la sera, tutto il volume, in compagnia, da sola. Un po' tutte queste cose insieme. Un po' tutte queste cose insieme. Va bene, grazie, grazie. Prego. Allora, stiamo spaziando e abbiamo capito che veramente i gusti sono... Scusa, una domanda al volo. Che tipo di musica ascolti? Stiamo cercando di capire, piccole interviste? Un po' di rock. Un po' di rock, italiano o inglese? Italiano, però. Ecco, un paio di nomi così giusto per fare. Negrita. Ah, ecco, Negrita, certo. E un altro gruppo singolo? L'Litfiba. L'Litfiba. Più prima che adesso. Prima della divisione. Grazie, grazie. Eh beh, sì, ci sono anche dei gusti, diciamo, classici. L'Litfiba, Negrita sono appunto... Si può chiamare rock, sì? Purtroppo sì, però... Come purtroppo sì? Scusa, una domanda al volo. Che tipo di musica ascolti? Stiamo facendo una piccola indagine sui gusti delle musiche. Rock, blues. Tipo, non so, un po' di due nomi? Le Zeppelin, musica anni 70. Anni 70, Pink Floyd, Genesis, qualcosa lì? La Genesis, sì. Bene. E quello oppure anche qualcos'altro di più moderno? Il moderno, se andiamo sugli anni 80, se vogliamo, con Guns N' Roses, oppure Nirvana. Sei il Veneto o di dove? Sei il Veneto o il Veneto, no? Sì. Di dove? Padova? Ah, si sente un po' l'accento. Di dove? Di Venezia. Di Venezia. E l'ascolto in cuffia come adesso, oppure anche a casa, tutto il volume? No, anche a casa suono anche la chitarra, per cui... Ah, perfetto. E vai anche con i certi? Sì. Quindi... Ne ho uno anche questo sabato. Ma siamo in città, noi andiamo in onda di sabato, tutti i due certi. No, io sono anche in città, abbiamo una band, l'abbiamo in prima di cominciato, per cui... Cioè, in teoria a maggio suoniamo anche Piazza Maggiore. Ehi! Che giorno di maggio? Non ne ho idea. Va bene, perfetto. Mi raccomando, seguitelo, perché lo vedete presto in Piazza Maggiore. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie a tutti